Dalla fabbrica a casa tua Da oltre 30 anni la nostra azienda produce e commercializza avvolgibili in PVC. Negli anni, grazie ad un continuo processo di sviluppo, abbiamo ampliato la gamma di articoli prodotti, inserendo con successo anche serramenti in alluminio e ligno alluminio. La nostra sede produttiva di Pomezia, circa 1000 m2, è strutturata in modo da consentire processi di lavorazione tecnologicamente avanzati ed in linea con le richieste del mercato. Commercializziamo inoltre una ricca serie di accessori per avvolgibili. Abbiamo acquisito nel tempo diverse partnership con aziende leader del settore che ci consentono di proporvi esclusivamente prodotti di qualità garantita. Si realizzano sopralluoghi e preventivi gratuiti. Il nostro personale specializzato è a vostra disposizione per consigliarvi il prodotto giusto e fornirvi tutte le indicazioni necessarie. Rivolgetevi con fiducia alla nostra azienda e rimarrete soddisfatti. Grazie per la visione!